No male Belli questi ti piacciono pure a te Marzo In effetti si del 2023 Best of the most expensive fails Oh piccini del fuoco Ma no Cioè inizia con una clip italiana No però guarda Potrebbe essere fatto tipo un film Stunt questa situazione Aspetta potremmo pure vederci qualcos'altro Che cazzo ne so Cioè potremmo vederci qualche I brividi mi vengono Ribe grazie per i quattro Rap to 6 grazie per il prime Mario grazie per il prime Vado Diciamo non è proprio una mossa saggia Ma Quello è lava Sì sì quella è lava Porco dio Eh ma esplode Ah no Eh questo quante volte Come here Get off the water Sì sì E qui Un po' di vernici Ma Ma c'è uno Ma scusami ma cosa gli è successo Porco dio Ma sembra l'umino bianco di coso Sembra l'umino bianco di Del gioco horror Ma che sei scemo Ah perché Marzo Perché questo è il davanti Ma è Putin No ma è il davanti Sì 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 certo Ma vorrei capire cosa è successo Oddio Homer Simpson Oggi ho visto uno che faceva live NPC Vestito da Homer Simpson Vabbè Emis grazie per i dodici Non lo so se sarà cappottato tutto Marzo suppongo Faccio la ride però Cascata bene? Non è cascata propriamente bene No no Secondo me no Eh no ragazzuoli Non è cascata proprio bene Doveva venire giù E non è venuto giù? No Doveva venire giù E non è venuto giù? Guarda tutti che si aspettano Lo devi fermare Lo devi fermare No e non ha la motrice Ecco me lo fermi Madonna Porco dio Ma che idea di merda Andiamo vediamo i controlli Nel fuoco Perché voleva fare la cosa? Voleva fare la ripresa Quella capito? Fica L'hai mai vista Ma farla correndo almeno L'hai mai vista mai le riprese Dei droni sui vulcani? Beh penso di sì No sì Dopo te faccio Vedete uno che fa riprese Dei droni sui vulcani Oh no 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 senso Oh no Oh no Porco dio Ma c'è gente in macchina? Eh Ale No Ramma mia Sì Cioè questi sono danni eh Eh parecchi Questi sono veramente danni Anche questi non sembrano fischiare Devo dire Lui si preoccupa Aspetta stai seduto sul divano Ti entra una macchia Porco dio Guarda la gente che esce fuori Guarda la gente che scappava Vabbè chill Ti sei mosso un po' male Ho un errore Tornano un po' troppo veloce Tornano un po' troppo veloce Ragazzi Sì frate Stai proprio sbagliando Ma io spero fosse una gara Perché se no Porco dio Porco dio Continua a non capire C'è a un certo punto qualcuno l'ha ideata quella cosa no? Sì ma c'è capito Come se non fosse la prima volta che ci passa magari Mike nella mia stalla il posto per te è ovvio Eh Ti faccio ridere Questo mo' Oh codio se lo porta appresso No non è vero Ah eh vabbè Con l'expense il fail Se gli ha sfondato un pezzo di legno Ecco questo Questo è già un balcone Madonna viene giù tutto il palazzo Mamma mia No 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 dai Che tipo di pesce è? Non l'auto Eh Olè Giorgio Power che prova un tiro Ma niente Niente il suo nuovo set di fotografie è andato male Ma ragazzi Che cazzo è uscito fuori da sto porco dio di posto? Quando sborri è questo Eccoci qui Eh poteva andare peggio assolutamente sì Deve anche andare meglio Questo poteva andare muoù No non sta frenando Non sta frenando No la macchina su Vabbè non sta bene Non sta bene dai Porco dio si è andata bene Si lo schiacciate Ho potuto schiacciare Questa non è andata bene Ho vetto kinder Grazie di 40 Non lo consercherò Davide 20 Io penso che non lo prendi più eh No vabbè è interessante Ma ce n'ho uno molto figo Se provi a colpire al volo una banana No non lo so Cioè sì dai È proprio un'idea del cazzo Sì la cagli di fuori Ma questo nel putzong Ah gli si è staccato Eh si è staccato vedi Ah vabbè è la solita guida Degli yacht Che abbiamo capito Che non li sanno guidare Bella raga Bella raga Bella raga Giorno di paga Ah lui continua però Ah no no ma lui non non Eh oh Si doveva parcheggiare Ma non era un pochino Un po' Un po' ricercare Troppo semplice Prendere forse la patente nautica A questo punto Non lo so Si infila Su quelle che sembrano Legni importanti Vediamo che cosa si inventa Che staccaccingolo Accade in avanti Scivola E questa cosa Rimane lì Per il resto dei suoi giorno Gabbo grazie di livello 1 Rollo grazie di 17 Addio No non ti arrabbiamo Cosa si aspettava Boh Che pensavano Lo facesse la lattina E non la lettone Non Poi l'ala Che cazzo è Cosa Come affatto Succede sta cosa Eh porco dio Guarda la nave Come si muove Marzo Ah sono sulla nave Ok Eh porca madonna Eh dio porco Porco Cristo di Dio Palmi bentornato Vabbè dai Dove andare così Dove andare peggio Eh mi dispiace Per il tuo patio All'aperto No prende la casa piena Porco Ah no vabbè dai Eh oddio Vi a vedere questo colpo Tra Questa fight Tra pullman Mamma mia Addirittura Gli effetti speciali Pazzesco La macchina La macchina Ma c'è qualcuno Dentro Ah no vabbè Ma credo sia qualcosa Di organizzato Spero Mamma Che disastro Mamma mia Eh vedo della neve Qualcuno Non ha frenato Oh Gesù Cristo Dio No Eh ormai Là che fa No ma si passa Una macchina Ah vabbè Ma no Ormai te becchi L'impennata Che ha fatto Ma vabbè che c'è stava La pallina A un certo punto Ma infatti Secondo me c'è stava Ha rosicato Che ha fatto Ha sfonnata Ok Un modo strano Di tirare via Un albero La sta smielando Nel bong La sta spuzzando Del tutto Per un po' Rimaniamo senza luce Eh ma ci si va Mi sa eh Bisogna caricarsi A letta Ok Sì Le persone pensano Di poter levare Il ghiaccio Senza che poi Il ghiaccio Abbia un peso Mi fanno Come se si Scretolassi In aria Ok Sì Per riempire La boccia dietro Assolutamente Non Lune Grazie mille Grazie per il sub Benvenuto Grazie Lune Grazie davvero Per essere tornato Nei marzoni Eh no Se lo mette Per Lune E benvenuto Porco Dio Ma quello è il motore Eh sì Ma è un po' Modificata La situazione Nel senso Li porti all'estremo E poi può succedere Ho capito Ah qui Che abbiamo Lui va Lui va Una guida Ma cioè Se prende il treno Impazzisca Ah no No Ma no Se va a parcheggiare No no Mi sa che viene una macchina Ti stai riprendendo Ok Che sfiga comunque L'avete ovviamente attaccata L'avete No assolutamente no Te pare Non l'avete E ale È una gru Che si sta staccando Nel nulla Peraltro Non so se mi hai giocato A mirror stage Ma c'è un posto Che è identico Si 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 ho capito Zuni Grazie mille per il club Benvenuto Oh cazzo Ma Toma C'era uno dentro No no dai Non è perci Pella È morto Ciao bitume Graspiri 3 Bentornato No Vamos Voi Oh lì Bentornato Leonardo benvenuto Language Reel Grazie per il prime Benvenuto Lo sai che Dall'anno prossimo Levano la spot Sì Troppo utile Mi dispiace No, vabbè, me l'ha detta Nadia a me No, me l'ha lasciata Vuol dire che da qualche parte si legge Allora, raga Oh, di cerchi di fumo Sì, è veramente brutta al livello Ma è veramente fica Al livello invece di visivo Ma che è? Pizzino, olibazza, bitume, bentore e bello visivo No, va a finire tutto male No, raga, levano la squad stream per fare Boh, altra roba, non lo so Peggiorerà, no Scusa? Ma toh, raga, pensavo, pensavo mi fosse successo di nuovo Pensavo mi fosse successo che se n'era andato l'audio di nuovo No, invece no Oh, oh, oh Gli fa ride tantissimo al ragazzo, sta cosa Sì, io non riderei nel momento in cui un motore perde vicino a un coso Di un minzino Botevano a peggio Eccoci qua hanno levato l'osso hanno levato la score stream non si capisce sono tipo le cose che funzionavano e basta chi sfonderà la tv di tutti questi regà lui mi è piaciuto il silenzio stuk beh vabbè no non è proprio una bella idea veramente quelli che odio di più non capisco come non riescano a comprendere ah e questo ma l'abbiamo già visto e questo ci ha avuto un buco di culo capito ci hanno pure fortuna ma non so ma cazzo ma ti verrà in mente di fare l'avvio la c'è il la v la v dal lato in cui la vuoi far cadere punto bitume sognante pizzino cinghiale bentornati e adesso ci stanno a sfondare gli acuzzi qui invece viene sfondata questa ma che entrata è nooo porco il dio ragazzi era un c4 no 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 mamma ma ma sta appesa sta appesa da sopra proprio all'ultimo zio porco oh no oh no lei ride ah si l'abbiamo visto questo vabbè finché ci siamo domandati ma perché non sei entrato e stai fuori vero ok riccardo dose prova a prendere questa tv non era una tv era una lastra mi sa era una lastra di qualcosa di importante però oh mamma mia si è caricato sta a tirare tutto vabbè dai potrebbe andare molto peggio belli così via bentornati quelli che usano quelli che provano a spostare i mobili sono i peggiori sono veramente i peggiori fanno delle cose veramente assurde oh shoot oh erbuninello 15 de potenza 100 de precisione leva poco poco in 5 turni Pietro grazie di 4 bentornato grazie posso dire una cosa ma non so che cosa succede ma secondo me non è convenientissimo fare tante scintille vicino a delle cose che di norma sono tipo di ossigeno si no non è non è molto logica come scelta oh una cosa best time come sei fatto oddio orco dio orco dio che sta succedendo sono fatta in teoria per resiste che fa non le sta riuscendo è il pc non le è riuscito no benissimo attenzione olè olè morto in questo caso dovrebbe fare molto più male di quelle del prevista questo ragazzi erano i fail più costosi del 2023 ecco Josh testo sotto bellico e alegue ben tornati niente di così esagerato diciamo non li mandano più ormai dici non li mandano più certo è andato un po' in disuso che le near death l'abbiano segate è andato un po' in disuso grazie 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 grazie